Buongiorno, good morning Milano a tutti quanti e a tutte quante e a tutti coloro che sono in ascolto in questo momento alle 7.06 minuti di oggi lunedì 4 marzo qui su Crystal Radio, ancora come sempre con Good Morning Milano. Come state? Il weekend è finito? Cosa avete fatto? Ce lo raccontate quest'oggi? Vi va di condividere con noi il vostro weekend? 331-7853-555. Il numero di Whatsapp è che potete scriverci e raccontarci un po' tutto quello che è stato e che avete fatto. So già che ieri sera siete stati tutti a casa a guardare la Ferragni, da Fazio, quindi so benissimo che tutto tutto torna come al solito, però va bene. Noi siamo comunque in diretta fino alle 9, tutto a posto, non ci sono problemi, è bellissimo iniziare bene la giornata con voi, con i vostri Whatsapp, con i vostri racconti. Oggi che è il 4 marzo, abbiamo detto no? Ve l'ho detto poco fa, vero? Cosa vi viene in mente se dico 4 marzo? Ovviamente Lucio Dalla e quindi non potevamo che iniziare la trasmissione con una canzone di Lucio Dalla. Era scontato mettere 4 marzo 1943, ne facciamo un'altra, ne mettiamo un'altra, ma per ricordare questo grande artista appunto che nasceva il 4 marzo del 1943, il grandissimo Lucio Dalla. Andiamo avanti ancora perché prima di partire con la nostra trasmissione dobbiamo sapere un po' come va il traffico in questa città e quindi colleghiamoci con Luce Verde. 7-16 minuti, giovanotti ricordati di vivere, buongiorno ancora a tutti quanti, a tutte quante collegate in questo momento e questa mattina iniziamo subito con degli ospiti in studio perché parliamo di musica, parliamo di musica etnica, musica particolare, musica che anzi, di la musica non ha confini. Perché c'è stato un concerto interculturale, proprio domenica, a Villa Clerici ma per parlarne sono venuti qui con noi dei graditissimi ospiti. Tra coloro c'è Cinara Shirin, buongiorno Cinara. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno anche a Sabina Mamadova e Sahib Pashadzade. Pashadzade, è corretto? Sì. Allora, so, to close to the microphone when you need to speak. Buongiorno. Allora, good morning, welcome to Milan. Allora, che cosa... Raccontateci un po', che cosa è successo ieri e che tipo di concerto è stato? Allora, siamo riusciti, abbiamo riusciti di ottenere questo lavoro e per questo innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori, il clavicembole Verdi, Gallerie d'Arte Sacra dei Contemporanei, Villa Clerici, Maestro Angelo Mantovani che ha fatto il lavoro, ha coordinato tutto. Un saluto al grande Maestro Mantovani. Quindi, ovviamente, il messaggio di questo concerto era la musica, la lingua di musica che unisce tutti. Tu, Cina, sei una cantante, no? Cantante lirica, no? Mezzo soprano. Ecco, ok, tecnicamente so che ci sono tante differenze. Invece, sono altri maestri, anche loro, nel loro sono... Cosa cantano? Cosa suonano? Allora, Sabina Mamadova, lei è pianista. Pianista, ok. Buonissima pianista. Invece, Sabina Pachazade, lui suona TAR, questo strumento nazionale nostro musicale. Lui è anche artista onorato dal governo di Azerbaijan, è una persona molto conosciuta che gira il mondo, quindi sono contenta che anche ha trovato il tempo. E' stata fortuna di essere insieme qui, di fare il concerto a Milano. Allora, io subito una domanda per il maestro. Com'è esportare in Europa uno strumento a noi sconosciuto, ma che per voi invece è fondamentale nella vostra cultura musicale e non solo? Ah, questa domanda... Sì, glielo poi chiede, ragazze. Il TAR, appunto, è questo strumento musicale tipico dell'Azerbaijan, che è molto utilizzato nella musica zera, ma che in Italia, come in Europa, si conosce poco, quindi com'è? Sentiamo, sentiamo, sentiamo. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Sì, lui prima di tutto ha detto che ringrazio tutto, ringrazio tanto lei, Fabio, per il vito, è stato contento di essere qui anche questa mattina. E poi ha detto che essendo cittadina di Azerbaijan, o persona azzera, è molto importante perché TAR, strumento nazionale, proprio quando suona TAR noi sentiamo in sangue questa musica, quindi lui è sempre contento di presentare, di raccontare di questo strumento, ovviamente, ovviamente, di far conoscere con piacere, con grande responsabilità. Ma dopo poi lo sentiremo anche, perché so che ha portato lo strumento, ma ce l'abbiamo dopo, dopo lo sentiremo anche. Come è invece, chiedo alla nostra ospite, invece, com'è il pubblico italiano, come risponde, Sabina, al pubblico, alla musica dell'Azerbaijan? Come c'è, come c'è, come c'è? C'è l'abbiamo, che c'è il pubblico? Ovviamente prima del concerto abbiamo avuto questo, siamo stati molto emozionati perché loro non sapevano come pubblica, come reagiscono le persone ovviamente, ma davvero ieri il concerto è andato benissimo. La musica è stata accettata, piaciuta, quindi siamo contenti che abbia apprezzato il nostro concerto, esibizione dei nostri brani, perché il concerto è stato, noi abbiamo creato un bello programma, quindi c'erano brani italiani, aree di opera, anche brani classici azzeri, strumentali per pianoforte, ovviamente per me che ho cantato. Per esempio ho esibito aree di Santuzza, di Pietro Mascani, ho esibito di aree Seville, dall'opera Seville di Ficretta Mirov, che ho compositori azzero. Quindi poi abbiamo creato, abbiamo fatto tutto con grande responsabilità, quindi la musica e il testo che ho cantato abbiamo tradotto in italiano per fare capire a tutti di cosa sto, di cosa si volevamo. Tu il pubblico italiano lo conosci ormai molto bene, quanti anni è che ormai calchi i nostri palcoscenici tantissimi anni ormai? Allora, da sette anni. Eh, insomma, infatti. Però immagino che sia sempre emozionante portare la propria musica, la musica delle proprie radici nella nostra cultura. Può essere la musica un buon strumento per unire i paesi, unire i popoli, unire le persone? Ovviamente questo proprio evento che abbiamo fatto ieri era per la musica non ha confini, il linguaggio di musica unisce tutti, soprattutto in questo periodo che adesso noi viviamo, particolarmente difficile per tutti con queste guerre che volevamo portare qualcosa di bello. Unire, unire due popoli, fare, a parte che ascoltare questa musica di Azerbaijan, ma anche unire perché davvero questa lingua unica per tutti. E abbiamo capito questo ancora ieri sera perché è stato bellissimo il concerto. E mi fa piacere che, per esempio, a dicembre noi abbiamo fatto questo concerto a Germania, in Germania, scusa. E lì anche erano tanti, c'erano tanti azzeri. Ah, ecco, ecco, ecco. Però qui è stato più interessante perché erano solo italiani. Solo italiani che hanno quindi imparato qualcosa. Avete fatto una serata anche di educazione, no? Di divulgazione della vostra cultura. Allora direi questo, adesso noi ci fermiamo un attimino, andiamo in pubblicità. Nel frattempo ci organizziamo per sentire proprio anche il TAR, questo strumento tipico a zero, che appunto suonerà qui nei nostri studi. Quindi un attimo di pausa, poca musica ancora, qualche informazione e poi di nuovo qui, in diretta, su Cristal Radio, a Good Morning Milano. Sono le 7.25 minuti, 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5-5, grazie anche per i WhatsApp che sono arrivati, ma adesso poi li leggiamo tutti con calma. Andiamo avanti adesso con Elton John, Nikita. Clara con Diamanti Grezzi, 7.35 minuti, Cristal Radio, 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5-5. Leggo adesso un WhatsApp appena arrivato da Alberto, dice Buongiorno Fabio, buongiorno ai cristallini in ascolto, buona settimana a tutti, ancora sotto la pioggia, eh sì, questa settimana è così, eh. E venerdì, oltre alla festa della donna, ci sarà però lo sciopero del trasporto pubblico, come sempre ormai, poi ne parleremo magari nei giorni prossimi, di questa cosa di unire questa giornata così importante come quella della festa della donna e della ricorrenza appunto della giornata della donna, con uno sciopero del trasporto pubblico che invece rende tutto molto più complicato, va beh. Ma questa mattina diamo invece spazio alla musica, siamo qui ancora insieme ai nostri ospiti direttamente dalla Zerbaijan, sono venuti proprio qui a raccontarci la loro musica e anzi è arrivato in studio anche lo strumento di cui parlavamo poco fa, il TAR, giusto, Cinarra? TAR si chiama, no? TAR che, allora, lo descrivo per chi ci sta ascoltando in radio, è una sorta di chitarra, però molto più sottile nel manico. Quante corde ha? Quattro, quante corde ha? Tre corde? No, una marea ne ha di corde. Quante corde ha? Undici. Undici corde, undici corde sotto a una sorta di cassa che è acustica molto interessante. Pensate bene, è uno strumento molto particolare che ha un suono particolare, ma soprattutto che il maestro sa suonare molto molto bene e che porta in giro per il mondo. Allora, chi siamo noi per non chiedere al maestro se può farci sentire qualcosa di questo TAR? Cioè, in questo momento ci trasportiamo, no? Quasi sulle sponde lì del mare, così, siamo così, a Bac in questo momento, siamo lì e sentiamo il TAR suonare. Come suona questo TAR? Prego maestro, se vuole farci sentire qualcosa, noi siamo qui in ascolto, sentiamo, eh? TAR? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Wow, ed ecco qua quella famosa musica senza confini. Abbiamo visto come subito si è andato a inserire. Grazie, maestro. Grazie. Prego, maestro, se vuoi dire qualcosa. Grazie a tutti. Chishiras, ok, parlo un po' di Azzero Chio. Il nome di Muham. Ed è il nome di Muham, ok. E poi dopo vi ha fatto un pezzo nostro, appunto. E questo ci fa capire come con uno strumento tipico di un paese lontanissimo dal nostro, però si può comunque poi mettere insieme le varie culture. Voi però avete anche suonato, cantato, no? Sabina ha suonato il piano. Cosa ha suonato Sabina al piano ieri? Sabina ha suonato ibrani di compozitori di Azzerbaizzan. Ok. Come solista ha fatto da solo ibrani di Karakaraev. Sabina, cosa hai fatto la misa? No, io ho fatto il compozitori di Azzerbaizzan, Tofi Kuliev, Karakaraev, ma anche abbiamo fatto, lei ovviamente ha accompagnato a me, a Sahib, di sonare a ri di opera, per esempio, ovviamente a ri di Santuzza, ho cantato con Sabina. Sì, quindi Sabina è stata orchestra ieri per tutto, durante tutto il concerto. Sabina è una grandissima maestra di pianoforte, suona il piano da sempre e immagino comunque insomma ci sia anche un po' di affezione, cioè verso la musica comunque nostra, appunto la liria così. Com'è suonare per una musicista azzera anche questa musica appunto che insomma non ha confini da una parte e dall'altra, la musica italiana, però fin laggiù, fino a da quanti anni è che studia questa musica, da quanti anni è che la suona anche? L'immaginario dell'Azerbaizzana, fin dall'infondo diremmo, quasi in un certo senso, si arriva per suonare la nostra musica, come? Ovviamente essendo pianista che ha studiato a Baku in Azerbaijan, ovviamente. Essendo essere azzera, lei quando suona i brani di compositori azzera ovviamente sente più tranquilla perché questo è tutto più vicino ovviamente. Però lei ha studiato in conservatoria in Azerbaijan e quindi noi sempre abbiamo in programma da studiare tutti i compositori del mondo e prima di tutto i compositori italiani perché la musica nasce qua. Un po' di orgoglio italiano c'è dai. Io senti, Ginara, so che insomma sono le 7.40 del mattino, è prestissimo, però io piacerebbe sentire anche te cantare qualcosa, magari accompagnata dal maestro, non so, cioè so che vi sto chiedendo un'improvvisazione, una jam session qui dal jazz alla musica azzera alla musica italiana, così vediamo cosa può venire fuori, io ve lo chiedo così, si può fare qualcosa? Can you try to play something for Ginara and she can sing on tar music? Can you try to play something? 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 sono le 7.40 del mattino più presto di così non si può fare grazie anche agli messaggi che stanno arrivando musica bellissima scrivono al 3317853555 in questo momento arrivano i nostri whatsapp i nostri ascoltatori stanno apprezzando il fatto di aver portato qui questa musica sono contento anche di vedervi molto ben affiatati immagino ieri che bel concerto sia venuto fuori mi spiace per Sabina che non può suonare il pianoforte perché la vedevo che voleva stava anche cantando ho visto che si era subito presa Sabina vuoi cantare puoi provare a cantare anche tu ho visto che poi la sapeva voglio dire che questa iniziativa questa idea di creare questo nostro trio era ovviamente di Sabina perché lei è nata questa idea nella sua testa brava Sabina ovviamente poi abbiamo iniziato di lavorare come far vivere questo tutto e sono molto contenta che proprio qui a Milano in centro dove nasce tutto riguardo a musica la città che amo quindi noi alla fine abbiamo fatto questo lavoro e io vi ringrazio davvero tanto anche di essere venuti qui a raccontarlo grazie ancora ad Angelo Mantovani per questa occasione siamo davvero contenti di avervi qui io spero di avervi di nuovo qui so che adesso c'è un aereo che dovete prendere si torna già in Azerbaijan chi è che torna a casa? sahib 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 un prasso che non si torna a casa dove va di bello? dove tu va Babacu? dove è preoccupato in realtà perché tra poco proprio tra un'ora aereo allora andiamo digli che però non è problema perché stai andando in contromano col traffico cioè il traffico di sotto viene da Malpensa a Milano invece da Milano a Malpensa c'è meno traffico quindi siamo più tranquilli siamo più fortunati stamattina però vi lascio andare davvero grazie mille di essere qui con noi complimenti ancora ai maestri a tutti i maestri e a Cinar a tutti i maestri che abbiamo qui seduti con noi al tavolo grazie mille davvero seguiamo comunque appunto sui social si può seguire sia Cinar sia il clavicembalo verde insomma no? scusami poi concludiamo con un pezzo di un canzone bellissimo che abbiamo fatto alla fine del nostro concerto ieri allora io vi saluto vi dico grazie e chiudete voi col pezzo va bene facciamo così adesso si mettono ce l'ha spoilerato se non so avete sentito se avete sentito cosa vogliono fare ma facciamo finta di aver sentito a tutti i maestri 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 e non ti corre preso non ti strughe solo guarda a tutti i maestri a tutti i maestri a tutti i maestri bravo malpensa per riprendere un aereo che lo riporterà a Baku grazie anche ai messaggi che sono arrivati siete dei pirla posso dirvelo ai miei ascoltatori mi è arrivato un messaggio che lo leggo adesso perché non mi sembrava il caso di leggerlo con gli ospiti fantastico ho la salivazione a zero io stendo un bello pietoso su questo messaggio e basta non dico niente posso darvi dei pirla in diretta ai miei ascoltatori dai il milanese è simpatico come appellativo grazie però perché devo dire che la battuta non era per niente male e invece adesso è lunedì lunedì parliamo di lavoro e anzi che buon lavoro a tutti quanti perché iniziamo con la rubrica appunto anzi ascoltiamo Filippo Poletti con il suo buon lavoro e quindi buon lavoro a te Filippo buon lavoro a tutte sì buon lavoro nella settimana della festa della donna la prima parola della settimana è merito scelgo i collaboratori sulla base del merito è quello che ho imparato a fare all'estero ed è quello su cui vorrei essere giudicata a dirlo è Giuseppina di Foggia CEO di Terna merito dunque sempre in tutte le aziende la seconda parola chiave della settimana è team rosa ho vinto con un team di tutte donne la nostra forza è l'amore che mettiamo nelle cose lo ha detto Angelina Mango vincitrice del festival di Sanremo il riferimento è alla sua etichetta discografica indipendente la Tarma Records portata avanti da Marta Donà nipote di Adriano Cenentano assieme a Silvia Gianatti e Francesca Zampieri tutte under 40 bellissimo esempio di collaborazione di successo fra professioniste la terza e ultima parola chiave della settimana è felicità parola nel dizionario della lingua italiana di genere femminile ne parla la psicologa del lavoro Silvia Gazzotti che suggerisce il piano della felicità professionale a medio termine Silvia dice lasciamo correre i desideri senza preoccuparci delle difficoltà di raggiungerli chiediamoci semplicemente tra cinque anni in questo periodo cosa voglio essere riuscita a fare la risposta deve essere concreta dettagliata e positiva insomma la formula non deve essere solo voglio andare via da ma voglio andare verso tre i suggerimenti della psicologa del lavoro anzitutto individuare un obiettivo ambizioso ma raggiungibile poi identificare delle tappe intermedie e infine fare un tagliando periodico di dove stiamo andando dunque buon lavoro a tutte buona festa della donna vogue madonna vogue 8 e 13 minuti questo era la crystal history delle otto grazie ai whatsapp che stanno arrivando perché marinena scrive al 3317853555 bravissimi credo non ce l'avesse con noi ma con i nostri ospiti di prima ricordiamo appunto che abbiamo parlato di musica dell'Azerbaijan musica zera che è venuto qui sono venuti qui appunto a raccontarci un po' nella fattisprecie quello che è successo ieri un bellissimo concerto fatto appunto in quel di Villa Clerici ma è lunedì lunedì è l'inizio della settimana abbiamo sentito anche il buon lavoro di Filippo Poletti ma sentiamo anche cosa succederà dopo di noi eh sì perché alle 9.05 inizia senti questa tutta la settimana in compagnia di Ambrogio Curti e dalle 9.05 in poi ma non è che Ambrogio racconta cose così a caso e anzi so che ha qualcosa in riservo cioè qualcosa di prezioso per oggi 4 marzo Lucio Dalla domani 5 marzo Lucio Battisti ma io gli dico questo Ambrogio dalla linea a terra raccontaci un po' cosa sentiremo questa settimana in SentiQuesta ed era SentiQuesta o meglio era Lucio Dalla nella anticipazione appunto della settimana di SentiQuesta che andrà in onda appunto dopo di noi oggi lunedì e poi anche tutta la settimana con Ambrogio Curti mattinata quella di oggi di lunedì 4 marzo appunto dedicata a Lucio Dalla e domani come dicevamo invece a Lucio Battisti quindi settimana abbastanza impegnativa da questo punto di vista settimana impegnativa anche e anzi giornata impegnativa anche dal nostro punto di vista qui in studio perché sono tantissimi gli ospiti che stanno arrivando è arrivato anche il nostro prossimo ospite che adesso fra poco introdurremo qui in studio e vi assicuro che insomma di tutt'altro tenore sarà la nostra puntata da questo momento in poi ma si parla di cose serie io ve lo dico perché qui si parla di una forza una forza che deve stare con voi cioè che la forza sia con te questo dicevo qualcuno e chi sa che qualcuno di noi non possa diventare uno Jedi e essere al tempo stesso quindi portatore di questa forza non sto straparlando vedrete che tutto quello che sto dicendo ha un senso e questo senso lo scopriremo fra pochissimo qui a Cristian Radio in diretta qui a Good Morning Milano 3317853555 alle 8 e 20 di oggi lunedì 4 marzo e non possiamo che però andare avanti con la musica la musica di Cristian Radio che anzi io ringrazio l'ufficio programmazione che ci dà sempre grandi pezzi oggi abbiamo ascoltato ovviamente Lucio Dalla in un paio di situazioni ma ci sta ripeto il 4 marzo è la sua giornata ma c'è tanta tant'altra bella e buona musica che può girare e ascoltarsi qui su Cristian Radio vi ricordo dopo di noi ancora Ambrogio Curti nel 9.05 con SentiQuesta ma adesso andiamo invece con i Clant Bandit insieme a Jess Glyner in Radel B e questi erano i Tiro Mancino alle 8 e 31 minuti bentornati qui a Cristian Radio Good Morning Milano adesso io vi ho detto che dovete avere la forza se la forza non è con voi cercheremo di averla grazie al nostro ospite di oggi sto parlando di Matteo Menin maestro di Spada Laser dell'Accademia JG Saber Academy che è una JD Generation Academy buongiorno maestro buongiorno grazie mille per l'invito allora oggi parliamo di Spada Laser sì ok che voi pensate sia una roba eh ma adesso sentite cosa c'è dietro perché pensate l'Accademy esiste la JD Generation esiste dal 2012 dal 2012 quindi più di 10 anni più di 11 anni ormai infatti come si fa a diventare dei maestri JD con questa spada allora anzitutto frequentando il corso però va bene fondamentalmente noi andiamo a studiare quello che è il combattimento coreografico ok quindi sviluppiamo degli spettacoli in modo tale da poter riportare in scena dei combattimenti in stile Star Wars non facciamo una vera per scherma ok quindi il nostro studio appunto è lo spettacolo come fosse una sorta di wrestling però in tema Star Wars per così dire lì poi c'è la differenza sono i JD e i Paduan giusto ma che funziona quella roba lì no come che sono io non so mai spiegamela bene perché poi dopo si sbaglia qua io devo dire la verità sono legato i primi tre film poi dopo mi sono un po' perso lungo la strada quindi ma gli ultimi tre magari anche no ah piccola vena polemica comunque fondamentalmente ci sono due schieramenti lato chiaro e lato scuro ci sono i JD e i Sith i Paduan che citavi prima sono gli apprendisti più giovani dei Jedi ah ok quindi sono quelli light side non dark side ma light side esatto sono i piccoli light side ok perfetto infatti nel momento in cui ci si iscrive per il primo anno fino al primo esame si è effettivamente Paduan poi si sale di grado è come i pulcini nel calcio capito più o meno sì esatto quando arrivati in Serie A in Champions League siete dei Jedi oppure dei Sith dall'altra parte ma si sceglie il lato da acquistare o ci si ritrova cioè è una cosa che è dentro di noi non so come funziona è soggettivo ah è soggettivo se ti piace come una questione estetica perché vuoi fare il cattivo puoi scegliere o nessuno te lo vieta nel momento in cui quindi se sei proprio un bastardo di natura no scherzato se non sei cattivo poi invece se no dipende se di tua indole non per motivi estetici vuoi scegliere un lato o l'altro puoi scegliere liberamente ok perfetto ma insomma noi adesso qui ci scherziamo e immagino che tutti quanti di base ci sia una voglia di divertirsi indietro a questa a questa iniziativa però in realtà è una cosa seria perché appunto ci sono dei corsi che si fanno dove si imparano appunto delle coreografie dicevi no come funziona l'academy? allora l'academy come percorso d'apprendimento diciamo il percorso base è suddiviso in quattro anni in questi quattro anni si studiano i vari stili con la spada laser ispirati ai vari personaggi poi tutto quello che è la parte di coreografia è la messa in pratica di queste di questo apprendimento delle forme di combattimento quindi fondamentalmente si è in due per iniziare quanto meno si decide come sviluppare la coreografia che colpi fare più o meno come fosse un ballo in un certo senso e poi una volta che si è stabilita la si prova la si prova e la si porta in scena ai vari eventi con o senza costume a seconda abbiamo anche le magliette dell'accademia però il costume è più figo ebbè immagino perché poi appunto è quello che avviene anche poi nei film comunque c'è una coreografia che viene studiata no? dicevi gli stili dei personaggi perché ogni personaggio ha un suo stile particolare sì esatto ah cioè ti fai un qualche esempio ma facciamo un esempio proprio semplice semplice la prima forma di combattimento è quella di Luke Skywalker quindi molto semplice netta fondamentale come tecnica anche vedendo i film molto semplice cioè nei film lui tiene sempre quella tecnica lì esatto perché i coreografi l'hanno sviluppata in quel modo banalmente invece la seconda forma quella del Conte Dooku che è Christopher Lee è stata sviluppata sul fatto che lui era molto abile nella scherma e per aiutarlo combatte prevalentemente a una mano a differenza di Luke che è più a due poi si fa vedere tipo Obi-Wan e Anakin nel combattimento col 3 hanno due stili molto simili ma sono due stili differenti uno più offensivo uno più offensivo ogni personaggio ha un po' il suo stile e i coreografi hanno sviluppato appunto questi stili per dare anche un un carattere maggiore ai vari personaggi e chi sono i vostri coreografi noi gli istruttori siamo e come siete diventati istruttori di una cosa del genere la siete inventata da zero avete trovato da qualche parte e avete detto ah no dobbiamo portare anche in Italia questa idea oppure aspetta ho visto i film sono così appassionato che voglio farlo e insegnarlo a tutti allora diciamo tutto è nato dal nostro fondatore nel 2012 Emanuele Terzano e ok è nato da Emanuele Terzano che ha detto ha visto quello che erano i film si è appassionato al mondo di Star Wars ovviamente durante il corso della vita e avendo lui già dei progressi in ambito ballo in ambito arti marziali ha detto uniamo un po' il tutto creiamo un'accademia in cui possiamo andare a creare delle coreografie a tema e poi gradualmente si è sviluppata per diventare istruttore bisogna fare anzitutto iscriversi frequentare giusto un attimo il corso almeno per due anni e poi passato il secondo esame se si vuole si può decidere di interprendere questo percorso da istruttore e gradualmente andare a formare delle classi e poi piano piano nel tempo se ci si sente anche pronti si può valutare di diventare maestri le spade laser non si rompono come sono fatte queste spade ci chiedevamo nella realtà perché appunto pensando che non avete un GFX grafico che vi segue vi fa degli effetti speciali dal vivo saranno fisiche queste spade e come non si rompono no allora fondamentalmente c'è l'elsa ok che è la parte appunto di pugnatura che è in metallo internamente c'è l'elettronica immagino che su questo da casa pensano ah sì quella roba lì ho comprato il toys e non è quella roba lì non è quella roba lì è quella roba lì ma molto più evoluta è come se volete fare la scherma con la sciabola dei pirati presa forse non è proprio valido però in pratica l'elsa è di metallo internamente c'è l'elettronica composta fondamentalmente da batterie il pulsante e il led poi c'è altro ma facciamola semplice e se si vuole c'è anche il sound effect e poi la lama è fondamentalmente un tubo di policarbonato con una punta arrotondata con l'interno un tappino che è riflettente e internamente una pellicola anche se è riflettente quindi fondamentalmente la luce parte dall'elsa arriva al tappino rimbalza avanti e indietro e illumina la lama essendo poliuretano policarbonato le producono dove queste spade cioè chi è l'attorianzo delle spade questa è la citazione ragazzi citazione Pulp Fiction chi è che no Kill Bill scusa Kill Bill è sempre Tarantino no no Kill Bill ma chi è che produce queste spade fighissime mi viene da dire anzi dopo so che le hai portate dopo lo voglio vedere allora ci sono vari produttori però faccio un attimo da sponsor tra virgolette ma ci mancherebbe il nostro fondatore Emanuele Terzano sito emavox studio art le produce per noi quindi quelle per la nostra accademia sono le sue proprio mirate poi ci sono altri produttori ma noi usiamo prevalentemente le sue perché sappiamo che la qualità c'è altri sì altri no quindi tendiamo a rimanere più su quelle interessante interessante anche che appunto non è solo quindi la coreografia ma è anche la produzione delle spade e chi è che viene a darseli di santa ragione con le spade laser intendi come tipo di persone sì chi sono chi sono questi nerd molto disparate sicuro no e tutti i fan di star wars avete qualcuno che è arrivato fa non so minimamente niente di star wars ma voglio bene o male tutti conoscono star wars ma anche al di fuori dell'accademia in generale sì guarda solo qui abbiamo una persona che non ha mai visto il termo se lascia stare se andiamo un velo pietoso va bene lorenzo masieri un saluto a lorenzo no comunque di base a livello di età viene praticamente chiunque abbiamo allievi che partono dai 13 anni vanno anche sui 50 quindi è molto terogenea la cosa di base tutti quanti vengono perché gli piace star wars però nel momento in cui comunque dovesse uno venirmi e dire guarda io non l'ho mai visto però voglio far questo gli dico vieni vieni nel lato oscuro eh sì comunque adesso andiamo con un po' di musica ma io voglio dopo parlare bene per capire veramente anche magari ci dai qualche consiglio sulle mosse basi che si possono fare così capiamo un po' quali sono qual è la prima posizione come la danza cioè plie prima posizione seconda posizione abbiamo delle danzatrici di là credo i regi mi spiegano meglio chissà che ci sono i fondamentali abbiamo capito però partire un po' prendendo spunto da Luke Skywalker lui è la base lui è la base vabbè andiamo adesso un po' con un po' di musica con Annalisa con Sinceramente poi torniamo qui a parlare della Jedi Academy e a parlare appunto della Spada Laser che poi io tra parentesi ve lo dico dopo facciamo un bel video ve lo mettiamo sui nostri social e potete seguirci goodmorning.milano.it Sinceramente Annalisa 844 minuti Cristal Radio goodmorning.milano stiamo parlando di Spada Laser con JD Academy con JG Cyber Academy Jedi Generation tu non te l'ho chiesto tu sei un Jedi si sei un Jedi non sei un Sith si si un maestro Jedi sei un maestro Jedi non sei Sith ma ci manca sentite quanto asteo c'è giustamente sennò come si fa a combattere se gli vuoi bene a quell'altro non puoi infatti saluto Gabriele che è un Sith l'altestruttore di Milano e Gabriele forza ha dato chiaro sempre ecco un abbraccio ma diciamo che una cosa interessante del vostro sport in effetti uno sport diventa poi quel punto è che una volta si diceva del nuoto uno sport completo anche voi perché praticamente voi siete un po' come fosse una sorta di wrestler che però usano invece che le mani usano la spada si fondamentalmente è la stessa identica cosa poi anche a livello di allenamento se noi conclusi tutto il corpo tendi veramente a potenziare tutto se vuoi spingere ad allenarti seriamente puoi allenarti tutto anche in maniera funzionale quando è che si supera lo shock iniziale del sentirsi un po' ridicoli con una spada laser dai te lo faccio la domanda che se non all'inizio c'è dai allora in primi tempi ti senti un po' pirla dai diciamocelo dai poi dopo però diventa serio quando è che scatta quella roba lì secondo me dalla prima esibizione perché finché sei in palestra sei nel tuo ambito chiuso ti diverti però c'è un gioco esatto sì esatto è uno sport però adesso rimane comunque lì nel momento in cui invece ti esibisci magari ti scatta quella cosa che dici ok adesso facciamo un po' più sul serio infatti noi abbiamo il festival del fumetto a Novegro che ha un palco nel padiglione bello grande con la passerella noi lo chiamiamo il battesimo di fuoco perché se uno fa la prima esibizione lì che sei sul palco davanti a tutto il padiglione pieno di gente un po' di paura ce l'hai però vai da quel momento lì poi ti butti il padiglione di gente che non è lì a giudicarti ma anzi è lì a sognare di essere lì molto probabilmente spesso perché insomma è quella la verità cioè no perché se lo dico adesso chiamiamo mia zia dice ma sei funky ski ma se andiamo a nove secondo me ma se andiamo a nove ti dicono ma vorrei essere io lì sopra va che bella quella spada la vorrei io è così che funziona si è abbastanza poi nel momento in cui vai su che inizi a capire come giocare col pubblico crea un minimo di legame nel momento in cui sali è proprio differente arrivi su riesci a coinvolgere il pubblico nel momento in cui finisci la coreografia se senti che c'è un bel applauso ti riempie ti riempie il fatto che dici ok abbiamo creato un bel legame abbiamo fatto bene lo spettacolo è venuto figo ecco ma questi spettacoli voi li fate per varie situazioni immagino come funziona la fiera del fumetto ma anche per altre altre situazioni immagino sì allora oltre alle varie fiere comics che andiamo che veniamo invitati abbiamo fatto un evento molto bello alla Rocca d'Angera per un matrimonio che eravamo in piazza d'Arme della Rocca e abbiamo fatto questo spettacolo che avevano tappezzato tutte le finestre dell'interno cortile della Rocca con le bandiere dell'impero abbiamo fatto lo spettacolo lì in mezzo poi vabbè per un matrimonio per un matrimonio sì è stato bellissimo poi abbiamo lavorato la principessa Leila che si sposava chi era? il matrimonio della principessa Leila chi era? guarda per com'era il matrimonio era tutto quanto a tema ci hanno chiamato in tanti e ci hanno fatto fare gli spettacoli alcuni hanno fatto anche i figuranti all'interno del matrimonio pensate bello avrei visto chi era l'ufficiante mi sarebbe piaciuto vedere chi ufficiava chi li ha sposati era leader era proprio leader in persona esatto era lui quello che ne resta bene ma aziende che vi chiamano per fare cose non ancora era strano immaginavo a parte qualche evento l'abbiamo fatto in discoteca per alcune serate ci hanno chiamato anche per alcune aziende per fare tipo le serate quella team building team building in cui andavamo là ad esempio proiettavano l'immagine di un personaggio raccontavano un po' quello che era a livello psicologico quel personaggio per fare associazioni con l'azienda e poi da lì facevamo gli spettacoli dopo ogni presentazione ah bene il team building è interessante potremmo fare tipo noi i capi fanno i sit e gli stagisti fanno i jedi c'è la rivincita dello jedi facciamo però mi sa che finisce l'ordine 66 facciamo così facciamo e diciamo appunto è fondamentalmente una danza anche spesso e non avviene come fosse un vero e proprio balletto e avviene appunto con sia gli maestri che gli studenti quando è che dopo quanto secondo te uno studente può poi passare a fare il famoso battesimo del fuoco che ci raccontavi prima della prima esibizione da quanto io quando inizio il corso dopo quanto potrò passare a fare la prima esibizione ma allora io quando la feci 2016 dopo neanche un mese avevo fatto il primo spettacolo con Gabriele per l'appunto ci sono alcuni ragazzi che aspettano un po' di più dipende anche da come si è preparati da come si è in un certo senso lanciati nel farlo noi consigliamo di farlo quando si è pronti ovviamente senza indugiare troppo perché a un certo punto devi un attimo spingerli poi nel momento in cui vanno è come entrare nell'acqua fredda della piscina quando sei dentro hai fatto senti ma Matteo dacci un po' di informazioni su come iscriversi dov'è l'accademia non è solo a Milano ma ovviamente siamo con il mondo in Milano parliamo di Milano dacci un po' di informazioni da che ci interessano allora come sedi abbiamo la prima è Salessandria poi abbiamo sempre in Piemonte Torino e Acqui Acquiterme in Lombardia c'è Milano Pavia e Milano Milano e Pavia scusate soltanto poi vabbè c'è Bologna Ravenna Logo e qualcun'altra di sicuro però non vorrei dire sciocchezze insomma è un po' ovunque in tutto questo però c'è un sito qual è il sito? i siti sono due sono jdgeneration.it jdgeneration ok e jgshowacademy jgshowacademy.it trovate tutto quello che vi interessa mi raccomando fatevi un giro perché è molto molto interessante e insomma è bello vedere come si possa da un gioco inizialmente magari così può diventare appunto uno sport vero e proprio e chissà magari poi un giorno diventate anche dei grandi showman che potete portare in giro quest'arte guarda se volete vi aspettiamo tanto le porte sono aperte per tutti dai 13 anni in su fino a che vi reggono le gambe dai 13 anni quindi insomma abbastanza giovani si può iniziare non serve aver visto il Star Wars di recente l'importante è sapere un po' cosa stanno a fare ma dopo lo guardate con calma date i compiti a casa riguardate la scena lo consigliamo perché comunque ci si prende ispirazione ebbè infatti immagino immagino Matteo grazie mille davvero per essere qui con noi oggi abbiamo ricordato i siti abbiamo ricordato tutte le informazioni che ci sono mi raccomando andate vedete un po' quello che fanno e combinano i nostri gedi perché insomma l'accademia è sempre aperta si può iscriversi ai vari corsi va bene grazie mille Matteo andiamo avanti con un po' di musica e poi torniamo qui a salutarci perché siamo quasi agli sgoccioli con la nostra puntata di oggi lunedì 4 marzo 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 8 e 55 minuti di oggi lunedì 4 marzo siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano quest'oggi avete sentito e visto di tutto o non so voi ma a me la puntata è passata velocissima oggi ebbene abbiamo iniziato con la musica azzera con un grandissimo maestro di musica tar per poi finire ad un altro maestro maestro gedi di spada laser e anzi vi dico seguiteci perché fra poco ne vedrete delle belle sui nostri canali social ah si 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 e grazie anche a chi ci sta scrivendo al 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 si lo so oggi ho usato un po' di parole che non dovevo usare ho dato dei pirla ai miei ascoltatori ho detto che se uno inizia con la spada laser inizia magari si potrebbe sentire un po' pirla e scusate sono proprio di Milano e non so che dire quello o potevo sempre dire e sono gli intercalari gli intercalari ti fregano o buono che siamo a Milano e pensate se fossimo non so a Treviso e allora buona giornata a tutti dopo di noi Ambrogio Curti con Senti Questa noi torniamo qui domani mattina alle 7 sempre in diretta per una nuova settimana in vostra compagnia qui a Good Morning Milano sempre in diretta su Crystal Radio buongiorno a tutti ciao 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 Oh!